Musica Emanuele Mandolini candidato in consiglio comunale a Monte Cassiano per obiettivo comune dottore e medico di medicina generale dottore quindi una salientà che le sta molto a cuore Senz'altro ho deciso di scendere un po' nel sociale per poter migliorare e portare il mio apporto il mio contributo a questo paese a cui voglio molto bene perché chiaramente è il mio paese e il mio orientamento è quello di chiaramente di migliorare quelle che sono le condizioni con delle integrazioni chiaramente della cassa di riposo e di apportare un centro, un punto salute a Monte Cassiano come lo è stato creato nei paesi limitrofi integrato chiaramente con le circostanze e con le realtà locali quindi con la provincia, con l'ospedale provinciale e con l'ospedale regionale e speriamo di poter realizzare questi progetti in un obiettivo comune come il nome della vostra lista esatto quindi possiamo dire votate il dottore Mandolini Emanuele Emanuele il 8-9 giugno per avere una Monte Cassiano più sana esatto esatto Emanuele il 8-9 giugno per avere una protezione